Allora chi è Diego o Messi? No, no, hai capito male Hai capito bene chi è? Chi ha vinto il mondiale adesso? Messi Esatto E l'altro ha preso Maradona Però lui ha sempre questa cosa qua di Cioè già facciamo Maradona-Messi? È sempre così Ma perché? Perché questa cosa qua è una cosa che lui gli piace estremamente E tu chi prendi? Chi è Maradona? Tu Antonio? Il mio figlio si chiama Lionel secondo te? Aspetta, ho un 10 come allenatore e un 10 come giocatore stato Adesso vediamo Già partiamo carichi, vai Ma Maradona sempre Perché? Perché Maradona riusciva a portare nel calcio quello che era nella vita E riusciva a fare le comparazioni vita-calcio Ed era una cosa che per quello spostava popoli, spostava tutto Ovviamente la spiegazione va lì Probabilmente come giocatore Probabilmente come giocatore c'ha qualcosa in più È difficile dirlo perché poi io ero piccolino con Maradona Quindi capivo meno, spero, di quello che capisco adesso Però Maradona aveva un carisma che aveva un carisma come pochi uomini Non nel calcio, come pochi uomini nella vita proprio Mi hanno chiesto al teatro, no? E a un certo punto per questo giochino a Napoli Ti chiedono, ma te Lele? E mi diceva, ma il carisma? Gli ho detto, nessuno mi può mai convincere che è esistito nel calcio una persona con più carisma di Maradona Vi ricordate che ho detto questo? Quindi hai usato la parola Poi dopo che c'entra dopo il gioco? Ma come? Io, ma hai sentito il Mondiale con Messi? Ma cosa devo dire di Messi? Io però giudico voglio i calciatori No, ma non è vero Non è vero? No, ti spiego, no Anto Perché quando parliamo di figure iconiche Poi non ridere Così ma agli alto livello Che hanno cambiato la storia Non basta il calcio Non basta il calcio giocatore Perché io, siamo d'accordo, no? I 18 anni di Messi sono di più dei 7-8 di Diego Ma che problema c'è a dirlo? Ma hai sentito dire il contrario? Sì Vengo sempre dalla tua lì Ma se andiamo sul livello emotivo Quanto ha inciso nella testa e nel cuore Quanto ha lottato Anche per far prevalere il calcio del potrero, del bambino Quanto ha spostato Noi gli diamo valore Ma non toglie niente dall'altro Io ti dico anche che io Maradona l'ho stimato anche come persona Assolutamente Perché la vita privata di ognuno di noi Ognuno fa quello che vuole Assolutamente Chiaramente se sei un personaggio hai anche delle responsabilità E quindi tutte cose giuste Però quando Maradona parlava Poi si è verificato tutto Quando Maradona attaccava la FIFA Tutti arrestati Il tempo ha voluto che tutti fossero arrestati Assolutamente Io quando è morto Maradona Ho fatto il giorno dopo Nell'ospediatore Lo Sassuolo Per mezz'ora ho parlato di Maradona Ai giocatori Perché quello che mi aveva dato da piccolo Maradona non me l'aveva dato nessuno Come emozioni Sia in campo Ma come persona L'efficacia comunicativa Però alla realtà Alla realtà Quando io No questa però Tu pari del campo Però questa è anche questa realtà Io Maradona ovviamente Ero piccolo anch'io Io voglio Siccome noi amiamo tanto il calcio Noi andiamo a vedere Il calcio e il calciatore Quello che io ho visto Fare A questo ragazzino qua Messi Io non l'ho mai visto fare Quello che faceva Maradona Era magnifico Stratosferico Questo lo ha fatto Ad una velocità Dieci volte di più Facendo tutto quello Che mai nessuno nel calcio ha fatto Poi se iniziamo a parlare Che si portava dietro il popolo Si portava dietro i compagni Però non è poco Antonio Io parlo del calciatore Quello che lui ha fatto Roby Secondo me È unico nella storia Questo è legittimo Questo è legittimo Il calciatore Probabilmente L'ha fatto L'ha fatto di più Quanto meno Come durata Anche se ti dico Che Messi L'ultimo mondiale Ha fatto vedere Quell'aspetto Che magari Probabilmente Prima non sempre Aveva dimostrato A me è piaciuto Quando è andato da Van Gaal A me è piaciuto A me Che guardo le partite Comunque è stato Comunque rispettoso Ma comunque Ha mostrato Orgoglio Carattere Adesso vi racconto Un aneddoto Che è successo a Barcellona Che Ibra l'ha detto Sul suo libro Arriva a un certo punto Arriva Ibraimovic A Barcellona Arriva Ibra Ci sono tutti Cioè Carletto Arriva a Barcellona Ibraimovic Ibra deve fare il centroavanti Lui deve giocare È obbligato Tra virgolette A giocare a destra Arriva a un certo punto Che faccio Che non faccio Che faccio Che non faccio Va da Pepe E gli dice Io da oggi Ripeto Quando la gente dice Può avere personalità Non personalità Quello che lui faceva Andava E diceva E decideva Punto Perché andava Poi non vengono fuori Le altre sceneggiate Va bene Lui è andato Ha detto Io da oggi Voglio fare il centroavanti Che poi Quel 6 a 2 Che lui l'ha messo Centroavanti Eccetera Pepe giustamente In difficoltà Dice cosa faccio Cosa non faccio Dice non preoccuparti Organizza la riunione E parlo io direttamente Con Ibra Ha detto una parola Da oggi ho deciso Che faccio il centroavanti Finito Quell'anno lui ha fatto 91 gol Ha iniziato a fare Il finto centroavanti Quando si dice personalità Lui poche volte parlava E è andato a dirlo A un tipo Molto grande Con un ego molto grande Come Ibra E è andato a Pepe Quando Pepe poi parla di lui Dice E' stato nell'epoca anche di Cruyff Di Maradona Lui dice il Milor 7 8 9 10 11 E lo dice Pepe Che il mondo No Anto C'hai ragione Però capisci che Quando Maradona parla Di togliere il potere Al nord Negli anni Che non vinceva mai Una squadra del sud Dice una cosa che I tifosi La gente Non sa che lui Ha chiesto questa riunione Perché voleva giocare Centravanti Però Maradona Le diceva Si esponeva Maradona Quello che diceva Nel bene e nel male L'ha sempre pagato lui L'ha sempre pagato Di prima persona Non solo Robi Maradona Quello che ha fatto Non ha mai avuto lui Un altro Maradona A coprirgli le spalle Maradona L'ha coperta a tutti E si è esposto per tutti Quando è morto Non c'era un Maradona Sul letto di morte È morto da solo Ricordiamolo Questa cosa qua Però Il nostro discorso Non toglie il suo Il nostro discorso Non toglie niente Perché il suo è ineccepibile Lui quando parla di Messi E va Su tutte quelle cose Che ha fatto Messi Ricordando anche Una delle più grandi cose Che ha detto Togvardio In giro per il campo E poi ha messo la palla A Julian Alvarez Ok Contro la Croazia Io non preparo Quelle cose che dico lì Cioè A me è venuto naturale dire Riporta Maradona In un campo da calcio È quella cosa che dice lui Che dice Valdano Cioè Uno Uno non toglie nulla L'altro Veramente Poi Se tu mi dici Messi mi ha incantato Per 18 anni Io sai cosa ti dico Speriamo che lo faccia Anche a Miami Ok Perché non perderò Una giocata di Messi A Miami Te lo dico Ovviamente ognuno ha la propria opinione Te lo dico Io rimango Su Rimango Sulla somma dei due Dove quella cosa lì Secondo me Quella cosa lì Te lo dico Ha fatto la differenza Anche nella famiglia di Messi Il papà di Messi Dentro Messi Cioè Quello che tu dici Proprio lo sento Tu sei d'accordo con me Io sono d'accordo con te Roby Ma io Voglio solo E discussione Parlare Di calcio Quello che ho visto fare a Messi Non l'ha mai fatto nessuno Anto Allora ti dico una cosa Ma i 3-4 anni Che ha fatto Ronaldinho Tra Barcellona Ma Ronaldo è il fenomeno Sì E al nostro amico E io me le faccio rompere volentieri Perché quando parli di Messi Io sto qua un giorno Sergio Ramos Ha giocato per 10 anni Con Cristiano Ronaldo Con Ronaldo il fenomeno Quando è andato Avevano litigato anche loro Quando ha fatto gol col City L'anno scorso Uno Due Gol Ha detto Io ho avuto la fortuna Di giocare con tantissimi fenomeni Mai con uno come questo Il più grande giocatore della storia Ha giocato con Zidane Ha giocato con Contro Ronaldinho Non lo so Leo Quello che dicevi Che la famiglia di Messi Probabilmente È cresciuta con Maradona Io ti dico che Allenando tanti giocatori stranieri Come sono legati gli argentini Alla loro nazionale Alla loro terra Non ci sono Probabilmente Neanche i brasiliani Come gli argentini Sono Così si sentono attaccati Alla propria terra Alla propria nazionale È commovente E probabilmente Ha contribuito anche a Maradona In questo E tanto anche Gli ha dato una forte identità Una difesa dalle ingiustizie Maradona Voglio dire Tutti quelli Che hanno avuto a che fare O direttamente o indirettamente Sono cambiati dentro Hanno gonfiato il petto Hanno rivendicato Il loro status Gli ha capito Da ultimi Sono saliti Con Diego Gli ha portati ovunque Cioè È riuscito a legare Il campetto Io te lo dico Quando ho girato il video Di Rocco Ant A Scampia Ci sono i ragazzini Che vai a Scampia Quindi Maradona Gli ha detto più volte Più di Napoli Che di Buenos Aires Quando tu vai a Scampia I ragazzi di 7-8 anni Guarda Messi Chi ha la televisione Si trova in 10 In una camera Guardano Messi Solo Diego parlano Solo Diego Perché è stato tramandato Per questo è fondamentale Anche quello Ma soprattutto Per il messaggio Che ci piace dare a noi Nel calcio È fondamentale Comunque Roby Noi siamo stati Lui eravamo a Doha Stati da 80.000 65.000 Non argentini Hanno fatto il viaggio Della speranza Lasciando Ha lasciato zero E non avevano più niente Sono andati La speranza Hanno messo la speranza Dentro un mondiale Che è durato 28 giorni Ok